Il secondo libro dei re Una ragazza che era finita al servizio della moglie di Naman Lei disse alla padrona O se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria Certo lo libererebbe dalla lebra Naman andò a riferire al suo signore La ragazza che proviene dalla terra di Israele Ha detto così e così Il re di Aram gli disse Va pure Io stesso invierò una lettera al re di Israele Partì dunque Prendendo con sé dieci talenti d'argento Seimila sicli d'oro E dieci mute di abiti Portò la lettera al re di Israele Nella quale si diceva Orbene Insieme con questa lettera Ho mandato da te in Amman Mio ministro Perché tu lo liberi dalla sua lebra Letta la lettera Il re di Israele si stracciò le vesti dicendo Sono forse Dio per dare la morte o la vita Perché costui mi ordini di liberare un uomo dalla sua lebra Riconoscete e vedete Che egli evidentemente cerca pretesti contro di me Quando Eliseo, uomo di Dio Seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti Mandò a dire al re Perché ti sei stracciato le vesti Quell'uomo venga da me E saprà che c'è un profeta in Israele Amman arrivò con i suoi cavalli E con il suo carro E si fermò alla porta della casa di Eliseo Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli Va Bagnati sette volte nel Giordano Il tuo corpo ti ritornerà sano E sarai purificato Amman si sdegnò E se ne andò dicendo Ecco Io pensavo Certo verrà fuori E stando in piedi invocherà il nome del Signore Suo Dio Agiterà la sua mano verso la parte malata E toglierà la lebra Forse la Banà e il Parpar Fiumi di Damasco Non sono migliori di tutte le acque di Israele Non potrei bagnarmi in quelli per purificarmi Si voltò E se ne partì ad irato Gli si avvicinarono i suoi servi E gli dissero Padre mio Se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa Non l'avresti forse eseguita Tanto più ora che ti ha detto Bagnati E sarai purificato Egli allora scese E si immerse nel Giordano sette volte Secondo la parola dell'uomo di Dio E il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo Egli era purificato Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio Entrò E stette davanti a lui dicendo Ecco Ora so che non c'è Dio su tutta la terra Se non in Israele L'anima mia ha sete di Dio Del Dio vivente Come la cerva anela i corsi d'acqua Così l'anima mia anela a te, o Dio L'anima mia ha sete di Dio Del Dio vivente L'anima mia ha sete di Dio Del Dio vivente Quando verrò e vedrò il volto di Dio L'anima mia ha sete di Dio Del Dio vivente Manda la tua luce e la tua verità Siano essi a guidarmi Mi conducono alla tua santa montagna Alla tua dimora L'anima mia ha sete di Dio Del Dio vivente Verrò all'altare di Dio A Dio Mia gioiosa esultanza A te canterò sulla cetra Dio Dio mio L'anima mia ha sete di Dio Del Dio vivente Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga Nazareth In verità io vi dico Nessun profeta è ben accetto nella sua patria Anzi In verità io vi dico C'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia Quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi E ci fu una grande carestia in tutto il paese Ma nessuna di esse Fu mandato Elia Se non a una vedova sarepta di Sidone C'erano molti lebrosi in Israele Al tempo del profeta Eliseo Ma nessuno di loro fu purificato Se non Naman in Siro All'udire queste cose Tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno Si alzarono E lo cacciarono fuori della città E lo condussero fin sul ciglio del monte Sul quale era costruita la loro città Per gettarlo giù Ma egli Passando in mezzo a loro Si misi in cammino